Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile, ben trovati con questa puntata che è sicuramente speciale, diversa dal solito cliché di questa trasmissione. Vi spiego perché noi solitamente mettiamo sotto la nostra lente di ingrandimento una patologia, una metodica diagnostica o terapeutica. Oggi invece nel corso di questa trasmissione vogliamo rendere merito ad una specialista abruzzese più volte impegnata in Africa, dove porta aiuto e assistenza alle popolazioni locali. E visto che questa specialista è una pediatra, questi aiuti, queste forme di assistenza sono rivolte soprattutto ai bambini. Vogliamo raccontare la sua esperienza in Africa. Ve la presento subito e volentieri. Buongiorno e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Raffaella Marino. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dottoressa Raffaella Marino, specialista in pediatria, come ho detto in presentazione, Medici con l'Africa QAM e lo leggiamo anche dalla sua maglietta. Abruzzese nata? Abruzzese nata a Chieti, 34 anni, vissuta a Chieti fino a quando ho concluso i miei studi in medicina. Poi mi sono trasferita a Torino dove ho portato a termine la specializzazione in pediatria. QAM? Quando hai incontrato il QAM? Il QAM l'ho incontrato già durante il corso dei sei anni della mia laurea in medicina. Sì, che ha fatto a Chieti all'adannunzio. Esattamente, all'adannunzio e grazie al QAM ho avuto già la possibilità da studentessa di poter, diciamo, avere un assaggio di poter conoscere due realtà africane in Etiopia e in Tanzania, rispettivamente nel 2011 e nel 2012. E sono stati i suoi primi viaggi in Africa? Sono stati i miei primi due viaggi in Africa della durata di un mese solamente. Allora, intanto possiamo far vedere anche delle immagini, sono immagini girate proprio dalla nostra specialista, dalla dottoressa Marino, così intanto documentiamo anche e facciamo capire ai nostri telespettatori dove ha operato. Quindi, prima, esperienza da studente. Dove, dottoressa? A Uolisso, in Etiopia, nel 2011. Queste immagini che stiamo vedendo in realtà sono della mia ultima esperienza in Sud Sudan, di cui poi parleremo, che ho fatto appunto da specialista, già da pediatra. Le esperienze da studentessa mi hanno permesso di avvicinarmi a questo ONG e di iniziare un po' a capirne, ad entrare un po' nella filosofia per poi arrivare a sceglierla come ONG con cui lavorare. Le è piaciuta l'esperienza da studentessa, tant'è vero che dopo ci è tornata da specializzarne. Assolutamente, mi ha segnato talmente tanto da non poter più resistere. Questo ONG l'ho scelta, è la prima ONG italiana in ambito sanitario, è nata nel 1950 e da più di 60 anni, quindi opera per difendere il diritto alla salute delle popolazioni africane, quindi dei più deboli. Opera per arrivare all'ultimo miglio con l'assistenza sanitaria delle popolazioni più povere, con uno spirito di forte condivisione, di scambio e di lavorare con l'Africa appunto. Qui stiamo vedendo le immagini, l'ha detto prima, Sud Sudan, l'esperienza della quale parleremo maggiormente nel corso di questa trasmissione ed è dove è stata, come specializzata in pediatria. Certo, questa è Irol, nell'Eastern Lakes State, qui vediamo un frame che riguarda la strada e qui siamo in ospedale. Ho letto qualche sua dichiarazione, perché ho provato a studiarmi il suo curriculum, in una dichiarazione che mi ha colpito molto, lei ha detto, non sono io che ho scelto l'Africa, è l'Africa che ha scelto me, è vero? Esattamente, l'ho detto perché come vi ho già anticipato nel raccontare la mia esperienza alla studentessa, sono state delle occasioni che mi hanno profondamente, diciamo, colpito e mi hanno fatto mettere in discussione tutto un sistema di valori che già fremeva dentro di me, ma che ho avuto la conferma di dover riprendere in mano e appunto rimettere in discussione. Allora, lei ci ha detto che ha sposato, abbracciato la mission del QAM Medici con l'Africa, vediamo questo spot istituzionale, questa fotografia di questa ONG. Se dopo 60 anni di Africa, con 211 ospedali serviti e più di 1300 persone coinvolte nei progetti, in Italia siamo ancora degli illustri sconosciuti, è forse perché siamo più bravi a far nascere bambini che a farci pubblicità. Siamo il QAM, siamo i medici con l'Africa. Allora, un biglietto da visita molto molto sintetico, questo spot istituzionale, dottoressa Marino, qualche numero in più del QAM, qualche dato in più anche relativo a un'attività che dura da decenni in Africa. Certamente. Allora, il QAM è impegnato in otto paesi dell'Africa subsahariana, è impegnato in Angola, in Mozambico, in Etiopia, in Sud Sudan, in Sierra Leone, in Uganda, in Repubblica Centrafricana, è l'ultimo stato acquisito. è impegnato appunto da più di 60 anni e con progetti di sostegno, di assistenza sanitaria con l'ottica di sviluppo. In particolare, per quanto riguarda il Sud Sudan, il QAM è impegnato lì dal 2006, è impegnato in 5 ospedali e su più di 100 strutture sanitarie periferiche. sostiene anche l'università, sostiene anche la scuola per ostetriche della città di lui. Stiamo vedendo proprio delle immagini che ci ha fornito il QAM. Che immagini sono queste, dottoressa? Questo dovrebbe essere l'ospedale. Vabbè, stiamo vedendo. Non riesco a riconoscerlo dai piedi. Comunque stava dicendo che mi sono interrotta. Di niente, niente. Quindi è un lavoro che va avanti da più di 60 anni, come dicevamo. E la particolarità è che comunque il QAM si impegna sia in Italia che in Africa per la formazione di personale che poi andrà a lavorare sul campo. La cosa fondamentale è che si impegna anche a sostenere lo studio e la formazione del personale locale, soprattutto negli studenti di infermieristica e di ostetricia. Quindi non è solo pronto intervento, ma anche didattica sul territorio. Assolutamente. Sono progetti a lungo termine, appunto come dicevamo, in un'ottica di sviluppo. Parliamo della sua ultima esperienza, quella in Sud Sudan. Intanto, anche a beneficio dei nostri telespettatori, che realtà è da un punto di vista sociale ed economico questo paese? È un paese a rischio in certe zone, sì. È un paese a rischio, dobbiamo dirlo. Il Sud Sudan è il paese più giovane al mondo. Si è costituito indipendente nel 2011 e si colloca al 181esimo posto su 188 paesi mondiali per quanto riguarda l'indice di sviluppo umano. Questo vuol dire che gli indicatori di salute sono dei numeri che fanno un po' paura. Per quanto riguarda la mortalità infantile, la mortalità neonatale, la mortalità materna, possiamo pensare, per esempio, che l'età media della popolazione è di 18,9 anni e che l'aspettativa di vita è di 56-59 anni rispettivamente per i maschi e per le femmine. È un paese che da quando è diventato indipendente e precisamente poi dal 2013 soprattutto ha vissuto degli anni, e li sta vivendo ancora, di guerre civili, di profonda instabilità interna. E questa stabilità interna va a determinare, va a compromettere ovviamente la sicurezza della popolazione. Dobbiamo pensare che su una popolazione di 12 milioni e 3, circa 4 milioni di persone si sono mosse dalle proprie case, hanno abbandonato la propria casa, andando a cercare rifugio chi nei paesi limitrofi, quindi in Etiopia e in Uganda, chi nel Sud Sudan stesso. Quindi un terzo della popolazione ha abbandonato la propria abitazione. Proprio per questa anche instabilità politica che c'è. Assolutamente. Acqua, luce, cibo, com'è la situazione? Allora, le infrastrutture per quanto riguarda la rete stradale, la rete idrica e la rete elettrica sono molto limitate. Le strade asfaltate si trovano praticamente solamente in capitale e ciò rende facile immaginare come sia difficoltoso raggiungere l'ultimo miglio, cioè le popolazioni più periferiche che vivono appunto in un contesto in cui con la stagione delle piogge è veramente difficile muoversi perché il territorio diventa una grande pozza di fango essenzialmente. Quindi anche andare a raggiungere i servizi sanitari di base, poter andare a partorire in ospedale diventa una sfida non da poco. Il clima, com'è il clima? Il clima è infernale. Infernale per il caldo? Infernale per il caldo. Diciamo che nella stagione secca la temperatura media oscilla intorno ai 40 gradi con appunto giornate in cui si raggiungono anche 45-46 gradi e questo toglie veramente gran parte delle energie. Fa sempre, fa sempre caldo. Fa sempre caldo. E quando piove, piove sul serio e come dicevo il disagio poi è creato proprio dal fango e dal... Dalle strutture seri. Esattamente. Senta, com'è la situazione da un punto di vista sanitario, strutture, apparecchiature, farmaci, personale specialistico, lodevoli voi che fate didattica e formazione sul posto, ma la situazione generale com'è? Dunque, la situazione generale riguarda strutture, diciamo, che andrebbero rimodernate e ristrutturate. Per quanto riguarda l'ospedale di Irol, nel 2006 il CUAM, quando ha iniziato il proprio lavoro lì, si è occupato di, diciamo, ristrutturare il complesso ospedaliero. Il problema è che la struttura non è in grado di ospitare il gran numero di pazienti che si raggiunge soprattutto nella stagione delle piogge, quando il picco malarico è più grande, diciamo. Quando abbiamo il picco malarico. Per quanto riguarda le attrezzature che possiamo avere all'interno dell'ospedale, dobbiamo immaginare un ospedale in cui non abbiamo un servizio di radiologia. Quello che abbiamo è una macchina, un ecografo, e abbiamo un laboratorio che può, diciamo, eseguire analisi molto semplici, come per esempio delle prove crociate in caso di necessità di emotrasfusioni. Il minimo è indispensabile. Screening per quanto riguarda patologie infettive come l'epatiti, l'HIV e la sifilide. Ancora si possono eseguire esame delle feci, esame delle urine, spesso con strisce reattive, ma dobbiamo dimenticarci qualsiasi cosa che riguardi il nostro contesto qui. Ancora possiamo avere dei macchinari portatili che ci permettono di misurare la glicemia e l'emoglobina a letto del paziente. Diciamo che sono le uniche macchine su cui veramente facciamo affidamento, perché per il resto dobbiamo basarci sulla semiotica, quindi su quello che i nostri sensi percepiscono riguardo il paziente. E anche sulla vostra esperienza. E sull'esperienza pregresso. Intanto io ringrazio sempre i medici con l'Africa, QAM, che mi ha messo a disposizione e vi ha messo a disposizione la dottoressa Marino per raccontarvi questa bellissima esperienza e ci ha fornito anche queste immagini che state vedendo. Allora, lei ha lavorato in particolare nell'ospedale di Iroh, l'ha detto, o in Sud Sudan, no? In Sud Sudan. Dunque, diciamo che dopo la specializzazione ho deciso di partire e il mio periodo in Africa semestrale è stato suddiviso per esigenze organizzative dell'ONG in tre località. Ovvero sia, ho trascorso il primo mese a Bangui, in Repubblica Centrafricana, nell'ospedale Complex Pediatric che il QAM ha preso, diciamo, con cui il QAM collabora da poco. Il secondo e il terzo mese li ho trascorsi a Maridi, in Sud Sudan, e gli ultimi tre mesi li ho trascorsi a Dirol, sempre in Sud Sudan, in un altro stato. Queste sono queste, credo, le immagini dell'ospedale di Iroh. Con quali compiti? Di assistenza, ma anche di formazione, ci ha detto, soprattutto assistenza? Assolutamente. I compiti che mi erano stati affidati, diciamo, che riguardavano soprattutto l'attività clinica e di raccolta dati. Però sul campo, come dicevamo anche prima, il grande lavoro è dato dalla formazione on the job, ovvero sia, quel lavorare con l'Africa consiste soprattutto nell'essere presente sempre e nell'affiancare il personale locale, che spesso è costituito solamente da infermieri, perché, diciamo, il numero di medici è molto esiguo e spesso ci si ritrova ad essere l'unico medico affiancato dal personale infermieristico. Altro compito che mi era stato affidato, per quanto riguarda la formazione, per esempio nell'ospedale di Bangui, era stata la supervisione della prescrizione della terapia antibiotica, ma quello è un contesto ancora differente che quindi non riguarda il Sud Sudan. In Sud Sudan, diciamo, che mi sono per lo più dedicata alla gestione dei casi di urgenza, dei casi critici, quindi insieme al personale infermieristico cercare di capire cosa fare in caso di un bambino che presentasse convulsioni, in caso di un bambino in coma, in caso di un bambino con difficoltà respiratoria molto accentuata. È stato un lavoro faticoso, ma è un lavoro che bisognerà continuare, però ha dato già qualche risultato. Qualche risultato. Problemi di lingua? Problemi di lingua. Quindi con gli infermieri riuscivo a rapportarmi in inglese. Per quanto riguarda la comunicazione con i pazienti, è stato molto arduo. Traducevano gli infermieri. All'inizio avevo bisogno dell'interprete, ma pian pianino, pian pianino, sono riuscita ad entrare nelle parole chiave, facendo delle domande chiuse, sì o no, riuscivo a condurre delle anamnesi più o meno decenti. I gesti aiutano molto. I gesti aiutano molto. Ho riscoperto per l'ennesima volta l'importanza del linguaggio corporeo, quindi come si può comunicare. La maggior parte della nostra comunicazione è una comunicazione non verbale. Come si nasce in Sud Sudan, dottoressa? Come si nasce? Nascere è il primo step della vita, ma è già una sfida incredibile, perché dobbiamo pensare che la mortalità neonatale, la mortalità materna, sono molto elevate rispetto a quello che noi vediamo nei nostri contesti. Quindi facciamo un esempio. Su 100.000 nati vivi, circa 800 madri muoiono, mentre in Italia questo dato è 4. La sfida più grande è data dal fatto che le donne spesso, pur volendo, non riescono a raggiungere i centri di salute, gli ospedali o i centri di assistenza primaria periferici o le unità di assistenza primaria, che sono più capillari nel territorio. Questo per, come dicevamo prima, a causa delle infrastrutture soprattutto. E spesso perché calcolare i tempi del travaglio, calcolare i tempi del parto, rimane ostico. Spesso si temporeggia a casa, si crede di poter gestire il parto a casa e di fronte all'emergenza ci si trova in ritardo. Quindi si nasce, si fa fatica a nascere, nel senso che portare le madri a partorire in ospedale è uno degli obiettivi che il QAM si pone, su cui il QAM pone l'accento, sta lavorando. Per esempio, come numeri, possiamo dire che nell'ospedale di Irol in un anno si conducono circa 1.500 parti. È un numero elevato? Un numero in crescita, assolutamente sì. Senta, le malattie più diffuse, infettive, parassitarie, da carenze alimentari, ovviamente lei credo si sia dedicata soprattutto ai bambini, senza trascurare adulti e anziani, perché immagino che poi lì si debba fare tutto. Si debba fare un po' di tutto. Per quanto riguarda la popolazione pediatrica, le malattie che più frequentemente abbiamo visto sono state appunto quelle infettive, sopra di tutto la malaria, le patologie del tratto respiratorio, quindi polmoniti, le gastroenteriti con conseguente stato di disidratazione. E ancora abbiamo visto tantissimi casi ai noi di bambini affetti da EDS, con degli stadi già avanzati, addirittura nei primi due anni di vita, quindi a causa della trasmissione verticale materno-fetale durante la gravidanza. La prevalenza dell'HIV è molto elevata in questo contesto. L'HIV costituisce ancora uno stigma sociale molto molto prepotente, diciamo. Quindi riconoscere la malattia, riconoscere di essere malati e di dover assumere dei farmaci non è ancora accettato. Per cui quello che ci troviamo spesso di fronte sono dei quadri... Non è accettato dalla popolazione. Dalla popolazione e dalla madre che deve proteggere se stessa e il figlio. Però questo fa sì che poi ci troviamo di fronte a dei quadri spesso di comorbidità, perché la malnutrizione la fa anche da padrone, appunto per il contesto socio-economico di cui parlavamo, e si associa molto spesso appunto alla tubercolosi e alla sindrome da immunodeficienza acquisita da HIV. Ci sono malattie anche mortali. Il tasso di mortalità è abbastanza alto, ci aveva detto prima. Il tasso di mortalità è abbastanza alto sia sui neonati che sui bambini al di sotto dei 5 anni. Mi pare che si aggiri intorno agli 80-90 bambini ogni mille, per quanto riguarda i bambini sotto i 5 anni, ogni mille nati vivi. E il picco di mortalità lo si raggiunge con i casi di malaria severa, che sono casi che riguardano soprattutto la malaria cerebrale, quindi bambini che arrivano in coma, in stato convulsivo, in stato epilettico, in stato di male epilettico. E sono quadri spesso già avanzati, difficili da trattare, soprattutto per la latenza, per il tempo che si aspetta tra l'instaurarsi, tra la comparsa dei primi sintomi e poi l'estrinsecarsi del quadro grave. Funziona la vaccinazione di base? Intanto esiste la vaccinazione? La vaccinazione di base esiste, la copertura vaccinale è assolutamente insufficiente, più o meno dovrebbe essere intorno al 25%. E si fa proprio fatica a somministrare i richiami per le vaccinazioni. Quindi abbiamo visto anche dei casi di difterite, dei casi di tetano, che sono patologie assolutamente prevenibili con la vaccinazione, ma proprio a causa di questa copertura insufficiente si può arrivare a morire anche di queste patologie. C'è il rischio di potenziali epidemie? Il rischio di potenziali epidemie è sempre dietro l'angolo, proprio per il contesto di forte instabilità politica ed economica, e di difficoltà di approvvigionamento alimentare. Il rischio di epidemie, possiamo fare un esempio, nel 2017 c'è stato un outbreak di colera. Altre epidemie che si possono manifestare, che ci sono state, possono essere di morbillo, di meningite, sono emergenze, perché poi quando si iniziano a collezionare dei casi, oppure di casi di febbre morragiche, quando si iniziano a collezionare dei casi in ospedale, diventa anche difficile per il problema proprio della struttura andare ad isolare i pazienti ed evitare che si contagino. Immagino che lei si sia dovuta sottoporre a diverse vaccinazioni per... Sono vaccinata contro qualsiasi cosa. Contro tutto. Senta, i pericoli maggiori quali sono? Per chi si avvicina al sud Sudan e ovviamente per la popolazione. Dunque, i pericoli maggiori, come dicevamo, sono soprattutto a livello delle patologie, quindi epidemie e carestie. Questo è il pericolo maggiore che deriva dall'instabilità politica. È un paese estremamente fragile e quindi dobbiamo pensare che ogni singolo tassello della società è interconnesso e va a ripercuotersi sullo stato di salute della popolazione. Quindi, banalmente... A letto sono 12 milioni di persone. Sono 12 milioni di abitanti, sì, all'incirca. Quindi, banalmente, anche i cambiamenti climatici di cui tanto stiamo parlando in questo periodo, in un contesto del genere, possono determinare delle vere e proprie catastrofi. Vuoi per insufficiente irrigazione dei campi da coltivare, vuoi per dinamiche migratorie del bestiame, perché non dobbiamo mai dimenticare che la società sudsudanese, in particolare l'etnia d'Inca, che è l'etnia predominante nel paese, è una società basata sulla pastorizia. Diciamo che è una cosa che mi ha fatto sorridere all'inizio, ma che poi ho proprio toccato con mano. Le mucche sono al centro della società, sono il fulcro di ogni, come posso dire, rapporto sociale. Sono quelle che fanno camminare l'economia locale. Esattamente. Con le mucche ci si può sposare, se si hanno le mucche si possono avere più mogli, se si hanno le mucche si possono avere figli, e così può stare avanti la storia della propria famiglia. È veramente una società intrisa di tutto questo, e ha un fascino incredibile. Incredibile. Pastorizia, ma anche immagino agricoltura, che sia non un po' agricoltura di meno. Anche agricoltura, ma la fa da padrone la pastorizia. Senta lodevole ovviamente l'impegno del QAM, in generale gli aiuti umanitari sono sufficienti, di che cosa ci sarebbe bisogno? Di tutto. Di tutto. Gli aiuti umanitari ovviamente non sono sufficienti, si tratta di numeri veramente ingenti. Ci sono milioni di dollari investiti in progetti, c'è un fondo internazionale, Health Food Fund, che si occupa attraverso una partnership con il Ministero della Salute e con il governo sul sudanese, di portare avanti, di implementare i progetti di assistenza sanitaria, di promozione della salute materno-infantile. Ma ovviamente quello che occorre non è solamente l'aiuto economico, ma ci vorrebbe una vera e propria riforma strutturale dalla base, dalle radici del paese stesso. Perché comunque, come dicevamo, non si può prescindere dalla diffusione delle armi, dalla povertà e da tutta l'instabilità data dalla guerra civile. In queste zone dove è stata lei sono abbastanza tranquille, ma ci sono dei territori, delle zone ad alto rischio in sud sudano. Assolutamente, assolutamente. È un paese rischioso, non si può prescindere. Camminando per strada si vedono armi ovunque. Addirittura. Senta, invece l'istruzione dei bambini? L'istruzione è un altro tasto dolente. Le scuole funzionano? È un altro tasto dolente perché il grado di analfabetismo raggiunge quasi, sfiora l'80%. Si calcola che circa 2 milioni di bambini non frequentino la scuola. 2 milioni su 12 milioni della popolazione sono tantissime. Esattamente. Senta, che cosa le ha lasciato questa esperienza del sud sudano? La mettiamo insieme alle esperienze precedenti. Intanto, che arricchimento c'è stato del suo bagaglio personale, prima, immagino e professionale dopo? Il bagaglio che mi porto dietro inizia ad essere già pesante. Tutto sommato non ho trascorso così tanti... Quattro volte in Africa? Quattro volte per un totale di un anno e qualche mese. E' un bagaglio pesante ma che porto con gioia. Diciamo che ho avuto la possibilità di mettere in pratica la semiotica, quindi di mettere in pratica lo studio a cui ho dedicato tanti anni della mia vita. E' un bel banco di prova. E' un bellissimo banco di prova. Tutto quello che si ha sono le mani, sono il naso, sono gli occhi, sono le orecchie. E si arriva pian pianino veramente a fidarsi di qualcosa a cui non eravamo più abituati. Perché nel nostro contesto, con tutti gli esami strumentali e dei matochimici che abbiamo, spesso andiamo a curare magari il numero, andiamo a curare l'immagine. Ma lì sono i corpi che parlano, sono i pazienti che parlano. Bisogna sapere interpretare. Diciamo che da noi è anche più facile arrivare a una diagnosi e una terapia, lì si deve andare molto intuito, mi sembra di capire. Bisogna far tesoro degli strumenti che si hanno. Sono strumenti diversi, sono molto pochi, molto diversi da quelli che abbiamo qui. È una medicina totalmente differente da quella che siamo abituati a esercitare qui in Italia. Però utilizzando bene quelle risorse e soprattutto le mani e gli occhi, si riesce a venire a capo di diverse situazioni. Poi ovviamente ci sono diversi fattori che vanno a contribuire alla cura di un paziente. E quindi tante volte bisogna andare a fare un passo indietro e ridimensionarsi. Una delle cose più forti che mi porto dietro è proprio imparare a sviluppare quella capacità di discernere quando sia il caso di intestardirsi e di andare avanti o quando sia il caso di lasciare andare. Ci sono tante volte in cui bisogna lasciare andare il paziente perché le ripercussioni sulla famiglia, sociali, di quella storia clinica, di quella patologia, sono più gravi della perdita del bambino stesso. Immagino che non sia facile per la coscienza anche di un medico prendere queste decisioni. Come si è adattata a clima, alimentazione e lingua? Allora, il clima l'ho sofferto parecchio, come dicevo, ma diciamo era qualcosa a cui non si potesse forre il rimedio. Alimentazione? E' così. Alimentazione, riso, fagioli quotidianamente e ringrazio il cielo di averli avuti perché sinceramente non mi è pesato. Sono riuscita a sopravvivere bene. Ha mai avuto paura? C'è il tempo per avere paura in queste situazioni? C'è il tempo per avere paura. Forse nel viaggio d'andata. No, no, no. Paura no, però ho provato tante volte il senso di solitudine, cioè di fare i conti con me stessa, con le mie conoscenze e fare i conti con il dover prendere delle decisioni sulla vita di altre persone, essendo da soli. Questa impossibilità di confrontarsi con dei colleghi mi è successo soprattutto nell'ospedale di Maridi dove ero abbastanza isolata, diciamo. Questo è stato un duro banco di prova che mi è servito molto, però veramente fa uscire tanta rabbia, tanta testardagine e ci sono delle emozioni che bisogna imparare a gestire che è difficile ogni giorno. Momenti di debolezza, di sconforto, basta non ce la faccio più, torno a casa, dico la verità, mai? No, perché sono riuscita comunque a trovare la forza dai pazienti, dai bambini che riuscivano a cavarsela e quindi ho cercato sempre di focalizzarmi sugli aspetti positivi e sul senso di essere lì. Quindi se non ci fossero stati questi problemi non saremmo stati lì. L'ultima tornerà, tornerebbe in Africa, uscendo anche da questo studio tornerebbe in Africa. È l'unica certezza che mi porto dietro riguardo il mio futuro. Diciamo che l'impatto che queste esperienze hanno avuto sulla mia interiorità, sulla mia vita professionale è talmente grande che io non riesco più a prescindere da questo mondo. Quindi l'idea di poter tornare è l'unica spinta che mi permette adesso di affrontare il presente qui. Tornerà in Africa, sembra di capire. Complimenti per quello che ha fatto e quello che farà. Grazie per essere stata nostra ospite, magari l'ospiteremo in futuro per farci raccontare qualche altra esperienza in Africa. Grazie. Grazie a lei. Grazie alla dottoressa Raffaella Marino, specialista in pediatria, medici con l'Africa QAM. Con lei siamo stati in particolare in Sud Sudan. Grazie a Francesco Spechiuli in RG, Andrea Di Fabio in post-produzione. Grazie a voi telespettatori. Con voi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.